la casa davanti da la no, non lo faccio la casa davanti eh però perdo un pezzo meglio che gli vado dietro così lo seguo tu quando loro cominciano qua io mi metto più avanti che tempo fa' là sotto? Mauro però poi mi devi andare dietro perchè poi devo scendere lì eh che tempo fa' là sotto? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.